Vieni a visitarci su www.sicilainformazioni.com Ovunque, in tempo reale Siamo nei locali della scuola materna dell'istituto comprensivo Giovanni Falcone dello Zen 2 Come potete vedere alle mie spalle ci sono i locali che sono stati vandalizzati ripetutamente Potete vedere tutto quello che si trovava all'interno dell'armadietto è stato completamente levato, buttato per terra Anche i suppelletti li si trovano sui muri Potete vedere anche il resto delle aule Stiamo parlando di una scuola materna completamente vandalizzata, non c'è più niente Preside di fatta, qual è la situazione attuale nella quale verte la scuola elementare Falcone dello Zen 2 di Palermo? La situazione attuale comincia un po' a preoccuparmi Nel senso che siamo arrivati alla fine di agosto Il 18 settembre devono iniziare ufficialmente le lezioni Ancora non vedo nessun segno che mi faccia ben sperare per la riapertura della scuola materna Perché le sette aule che sono state vandalizzate e distrutte nel plesso della scuola materna Le sposteremo alla scuola elementare Ma sono necessari dei lavori per poter portare lì i bambini di quella fascia d'età E ad oggi non ho visto assolutamente niente Hanno colpito la scuola materna che simbolicamente non solo rappresenta il serbatoio di tutta la scuola Perché in un istituto comprensivo la scuola materna poi si iscrivono alla scuola elementare Dalla scuola elementare alla scuola media Se colpiscono la scuola materna e io ho ad oggi molti genitori che mi chiedono il nulla osta Per portarsi figli da altre parti Perché sono preoccupati per questa situazione, perché non sanno che locali troveranno E allora se mi diminuiscono le iscrizioni alla scuola materna Automaticamente diminuiscono alla scuola elementare e alla scuola media Per cui continuando così la scuola avrà pochi anni di vita Ci troviamo all'interno di una delle aule che è stata bruciata Come potete vedere è tutto distrutto Tutto quello di cui potevano fare uso i bambini è andato perso Le aule sono state annerite E da un mese a questa parte non è stato fatto ancora nessun intervento La scuola sta per ricominciare Queste aule sono praticamente inutilizzabili Tutto il lavoro, la vita che i bambini hanno passato qua dentro è andata praticamente perduta Naturalmente chi l'anno scorso ha lasciato la propria classe, la propria aula in un certo modo Non la ritroverà quest'anno Ci troviamo con la professoressa Sandra Iandolino Lei ha in mano qualcosa su cui stavano lavorando i ragazzi, i bambini Al quale tenevano particolarmente? Si, si stava lavorando sul grafico pittorico Nella fattispecie erano stati scelti come testi sui quali studiare, sui quali lavorare Gli impressionisti, infatti vedete I bambini guardavano i quadri Dopodiché vedevano tutti i colori, le luci E riproducevano addirittura alcuni tipi di pittura Con la puntellatura come Van Gogh per esempio Tutto questo è andato perduto? Si, è andato perduto come materiale Ma non come semi che sono stati buttati dentro i nostri bambini E questo è chiaro Io chiedo al preside, Domenico Di Fatta Qual è la sua, la prima sensazione che ha provato entrando in queste aule? Ma guardi, è una prima sensazione che ancora non se n'è andata Perché ogni volta che entro qui e vedo come è stato distrutto Quello che per molti bambini era la vita Perché qua a casa non sono tutti ad avere non solo una stanzetta propria Ma ad avere dei giocattoli, dei colori, dei disegni Per molti bambini venire qua era avere tutto un loro mondo E allora quando entro e vedo che i loro disegni sono stati strappati I colori sono stati strappati Vi assicuro che mi viene un bruciore allo stomaco terribile Perché non riesco a capire come si possa distruggere Quello che alla fine appartiene ai loro stessi bambini, ai bambini dello zen La scuola sta per cominciare Siamo ormai alla fine di agosto E a settembre toccherà ai bambini tornare in questo plesso per poter studiare Che cosa è stato fatto fino a oggi per cercare di recuperare questa scuola materna E ridarla al quartiere Che sono i proprietari di questa scuola Perché ci vivono i loro figli, come ha detto lei In questo plesso non ci potranno ritornare per molto tempo Perché è stato anche dichiarato inagibile alla fine di tutto quello che è successo E qua dovranno fare dei lavori strutturali e rimettere tutto a nuovo E ci vorrà del tempo Ci sposteremo alla scuola elementare Là dovranno iniziare i lavori per sistemare le aule Ma ad oggi non è stato fatto niente Ci troviamo nella palestra della scuola elementare Falcone Anche questa è stata completamente devastata Potete vedere i servizi igienici che si trovano ammassati lì Dopo essere stati distrutti Potete vedere c'è una completa distruzione da qualunque parte È inutilizzabile E come potete vedere Anche ogni minimo requisito di agibilità è totalmente inesistente E c'è da chiedersi come abbiano fatto a salire là sopra E staccare i canestri Evidentemente era una cosa organizzata e pianificata Perché saranno entrati con una scala e con un apparecchio Una sega, qualcosa per staccare i canestri di ferro che erano attaccati là Sono stati tolti tutti e due, li abbiamo trovati per terra Chiaro che se i ragazzi vengono qua a svolgere delle attività sportive E volevamo fare tornei anche con le altre scuole E aprire la scuola alla città È chiaro che almeno i servizi igienici devono esserci Tra l'altro vedo che anche le prese di corrente sono state completamente divelte Sì, sì, c'è da rivedere a questo punto tutto l'impianto elettrico E risistemare tutto quanto Hanno rotto i vetri, come si può vedere Per cui anche questi vanno sostituiti Perché non si potrebbe in ogni caso entrare in palestra con i vetri sistemati così Ed è chiaro che deve essere il comune a farlo Perché ci vogliono i mezzi per arrivare là sopra Vuole fare un appello anche alle istituzioni Affinché non veniate lasciati da soli In questa situazione Che è una situazione nella quale io credo Poche persone, pochi dirigenti scolastici sono trovati a Palermo Se non chi fa appunto attività in zone di frontiera come questa Sì, l'appello è breve, lapidario, è semplicissimo Non più telefonate di solidarietà o fax o belle parole Ma un aiuto concreto Vieni a visitarci su www.siciliainformazioni.com Ovunque, in tempo reale